questo è l'acqua spaziale di michael jordan animali animale benvenuti in questo nuovo video di calcio dopo tantissimo tempo è ritornato finalmente quindi dovete spaccare di like questo video se ne volete vedere un altro godetevelo perché è un video epico ci ho messo tantissimo per ditarlo ma ne è valsa la pena ora vi lascio il video e buona visione buona a tutti ragazzi e ragazze sono anime e bentornati in questo mio nuovo video oggi siamo in una nuova challenge qua nel campo da calcio con la quinta stella dei miei mi stai emozionando qua fabio j quello che semplicemente dovremmo fare oggi sarà scivolare su questo telo verde che vedete qua sotto ovviamente ci sarà del sapone col è scattata già l'ignoranza ovviamente bisogna superare i 200.000 mi piace se volete altre challenge del genere le regole sono semplici scivolare sul telo colpire il pallone e cercare di fare gol con un portiere vai la sfida cos'è ecco ecco arriva arriva è colpito è stato un delitto crash test numero uno si vola la testata quanto è quotata allora? ti regalo il canale ma che cazzo la pallo sapone e ciali eh che sta in porta poi va qui a tirare così è giro questo è per voi raga c'ho lo svelto fra i capelli mi sa che prendo una vacanza c'è una vacanza c'è una vacanza testa corsa dei polli bella 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 surry quotato come il miglior portiere dell'anno vai va vj in porta let's go vai surry vai vedi che passa se è fatta surry oddio la c***a di pallo al saccio non ho il braccio va riusciuta se si rompe un braccio sorrido tutto il braccio rigido oddio dai lorenzo vado vado fai sto go a vegason va bene mi sei già smicchiato il mio ma vai 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 oddio lo pugnala wow il ballo del pinguino sa cazzo è un cratere per terra è bellissimo è bellissimo ti tocca? cosa? basta devi entrare più o meno bravo facile a passarsi per non farci male eh merda c'è un po' di merda di coniglio addosso tutto dritto e senza paura basta col nonno è bello andare così piano meno di palle di tutti di palle 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 pensavi di fregare ok fai l'ora che è questo di party fortuna cos'è ho beccato qualcosa sono scivolato di brutto ma ancora di la palla che cosa? com'è possibile? per confondere il portiere anche lui ha i passetti da palle volevo fare il pallonetto si è parato da solo si è parato da solo è che sono un portiere magnetico io la farei di pari sta risvidando il portiere guardate questa caduta in te cosa sta facendo Stefano? è tipo è il bimbo bellissimo merda merda cazzo ma ho perso un coso due portiere no problem merda mi cattivo una bomba ora per si ma voglio vedere la potenza la velocità esce fuori surreal jade fanvi power vai ma cosa hai fatto? sta facendo l'angelo nella neve non è lubrificato le critiche ci scivolano addosso cos'è? sembra benzina che deve dar fuoco a tutto questa è benzina è venuto fuoco vai lore porta sono andato pronto sorri non fare il cagnaccio del merda faceva sempre il mio gatto prima lubrifica vai sorri ma sorri c'è la tecnica del pallonetto ma sorri corre come i polli vai Sasha tutto in guanna la fotografia per il secolo ma perché hai riempito tutto d'acqua? è una pozza corre vai lore pensa agli stalloni del sara spirit vado io tutto forte era un po' di stile perché tipo ok hai presente quando vai ok ti ha fattinato guardate il dribbling qua c'è troppo la faccia gli occhiali devo toccare la faccia nel collo nel cazzo non si può toccare niente ma cagare papà anima muay thai è pronto ma cos'è un drink di muay thai questo c'è un drink ero qui eh ero lì 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 eh bellissime ci stava eh ma chi è che ha segnato per lei ci siamo eh vado a dire a buona immaginate che c'è il fissore che lo devi scattare bellissima storico maradona pelle platini storia del calcio ma importa ma tu spaghi pelle rossa guarda come va piano non si baga altrimenti poi cade sono troppo forte rifacciamola ma come voglio rivedere voglio rivedere ha fatto un sapore negli occhi non ha calciato va rifatta va rifatta sono tagliato guardate qua questo è l'acqua spaziale di michael jordan ma va a cagare papà fermo prima devi diventare anche tu un ninja ma no che è tutto schifoso sporco la vita è fatta di cose sporche ma dai che sembra più gesù cristo sei carico è indicate ma se fai gol entri nei mails non lo diciamo a papà se sbagli dobbiamo uccidere papà con che ragionamento non mi sta neanche chi è che ha misurato sto coso il testo aveva ha arato il campo è stata lì fai g in coma e dubbio io voglio rivederla Fabio animali animali grazie per la visione del video spero a tutti che vi sia piaciuto se prendiamo i 200.000 mi piace ve ne faccio avere uno questo mese avete sentito bene questo mese vi faccio vedere un altro grazie ancora a tutti e non ci si becca domani con un nuovo video stay angry stay animals grazie per la visione